Bella a tutti amici con un nuovo video sul mio canale Gianluca Mometti, seguitemi stiamo facendo i giri per i vigneti di calino ne verrete un po' qua inizia la salita è al guri a tutti ci siamo quasi alla fine del tragitto seguitemi sul mio canale Gianluca Mometti mettete mi piace al video e anche su Instagram qui si 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 si